Questo video bonus per i 20.000 iscritti non poteva arrivare in un momento più opportuno. Vi spiego perché dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su andreapicinelli.net Oggi più che mai, tra poco capirete perché. Questo non è un video speciale, di più. Innanzitutto voglio ringraziarvi perché, grazie ad ognuno di voi, siamo arrivati a 20.000 iscritti al canale. Un traguardo inimmaginabile, se penso che 4 anni fa mi stupivo di avere 700 iscritti. Arrivare al numero di oggi è stato frutto di fatica e perseveranza, ma non avrei mai scommesso su questo risultato. Considerando che il canale, insomma, tratta di un tema molto tecnico, specifico. Il primo punto di questo video è quindi un enorme grazie a tutti voi che siete parte della community del canale. Vi dicevo che questo è un video atipico perché oggi, più che di fotovoltaico, volevo parlarvi di me. Della mia attività e della nuova avventura che è cominciata il 3 dicembre con la mia meravigliosa socia, Jessica. Socia proprio in tutto nella vita. Se non fosse per lei, probabilmente sarei ancora in un monolocale a giocare a Call of Duty con uno stipendio da fame. Per fortuna è andata così. Il 3 dicembre 2024 abbiamo creato la società andreapicinelli.net.stp.arl. Un grande traguardo e un nuovo punto di partenza per l'attività che abbiamo sviluppato in questi anni e per tutte le idee che vogliamo portare avanti nel prossimo futuro. Potrei parlarvi dell'immensa rottura che è costituire un SRL in Italia, tra mille adempimenti che si intrecciano in modo scoordinato, ma limiterò la mia frustrazione a dirvi che è stato un po' complesso, nonostante l'importantissima assistenza di MyAccounting.it che non sponsorizza questo video, però insomma ci tenevo a ringraziarvi. Costa di fatto che non so proprio a che punto saremmo senza le loro istruzioni e che questa esperienza rinnova in me la convinzione che avere una guida, una consulenza di qualcuno che conosce il settore in cui si si avventura, ti dà sicuramente un vantaggio in più o perlomeno ti evita di perderti. Torniamo a noi, voglio presentarvi andreapicinelli.net, stp.arl, perché nel marasma generale credo sia importante anche fare il punto della situazione su quello che facciamo, che abbiamo fatto in questi anni e che faremo con la nuova società. Andreapicinelli.net sarà una società di servizi tecnico-burocratici per il fotovoltaico e le energie rinnovabili, non poniamoci i limiti. Racchiuda in sé quella che fino ad oggi è stata la mia attività tecnico-professionale, come perito industriale Andrea Picinelli, e sicuramente continuerà ad occuparsi su tutto il territorio italiano di progettazione di impianti fotovoltaici, pratiche di connessione per impianti di produzione, con i miei meravigliosi collaboratori che presto vi presenterò anche ufficialmente sul sito, pratiche di gestione e modifica degli impianti fotovoltaici esistenti, assistenza tecnico-burocratica continuativa per gli impianti sopra i 20 kW, seguendo i clienti in tutti gli adempimenti periodici, attività di formazione specifica con i due corsi sulle pratiche di connessione al quali si aggiungeranno altri corsi di cui parleremo tra poco. Ultima, ma non ultima, ovviamente, tutta l'attività legata al canale di YouTube. In pratica tutto quello che ho fatto finora è diventato ufficialmente parte di andreapicinelli.net. Ma non è finita qui, ci sono tanti progetti e idee che vogliamo sviluppare nel 2025 e qualcuno ve lo voglio anche raccontare, così potete darmi la vostra opinione nei commenti, oppure se qualcuno di voi è interessato a una collaborazione può contattarmi con i recapiti che trovate sempre sotto. Ma soprattutto, alla fine del 2025 riguarderò questo video per vedere a che punto saremo del percorso. Diciamo che il nostro piano per il 2025 si può riassumere in due obiettivi. Obiettivo numero uno sarà concretizzare l'attività di networking. Perché? Perché mi sono reso conto che, per quanto sia riuscito ad aumentare la mia visibilità e a condividere la mia attività con sempre più persone, ho trascurato negli ultimi anni l'importanza di arrivare a convertire questa visibilità in contatti e di contatti in scambi di valore. Sicuramente la visibilità online è qualcosa di molto potente, me ne sono accorto, però sto vedendo, cercando di stare dietro alla ristrutturazione, che il mondo dell'edilizia ancora oggi, nel 2024, non viaggia su internet, è ancora fatto di incontri di persona e se proprio proprio, per esagerare, di telefonate. Tu prova a scrivere alle imprese edili o artigiane. 3 su 4 non ti risponderanno alle mail prima di una settimana. Alcune manco ti rispondono perché non le leggono. Cioè ti dicono proprio, non le leggo le mail. Figurati a quanto si riduce la proporzione di quelle che guardano video su YouTube. Chiusa parentesi, sarebbe ora di arrivare nel 2024, vabbè. Quindi mi sono reso conto che c'è bisogno di anche qualche modalità analogica per arrivare alle persone. Quindi primo obiettivo 2025, collaborazioni. Collaborazioni con i tecnici installatori, infatti puntiamo ad allargare l'archivio installatori di qualità. Mi raccomando, se siete interessati vi invito a compilare il modulo che trovate sul mio sito. Collaborazione con i brand dei componenti del fotovoltaico, con cui sto già organizzando varie cose che scoprirete continuando a seguire il canale. Mi raccomando, iscrivetevi. E collaborazioni anche con servizi per il fotovoltaico. Software, servizi di consulenza, sistemi di monitoraggio, sistemi per la gestione dell'energia. Tutto ciò che integra o migliora la qualità della vita, collegandosi o sfruttando l'opportunità di energia gratuita prodotta dal proprio impianto fotovoltaico. Questo discorso ci porta al secondo obiettivo, che è allargare gli orizzonti. Come abbiamo visto nell'ultimo video, nel 2025 ci sarà la necessità di sviluppi in diverse direzioni del settore fotovoltaico. E quindi ci saranno anche nuove sfide da affrontare. E per questo ho voglia di scoprire insieme a voi i limiti del tema fotovoltaico e andare leggermente oltre. Sconfinando in ambiti che sono naturali evoluzioni e conseguenze del fotovoltaico, come la ricarica elettrica, i veicoli elettrici, le pompe di calore e tutti gli altri aspetti elettrificabili della nostra vita, del nostro lavoro, eccetera. Naturalmente, per perseguire l'obiettivo collaborazioni, approfondiremo ogni tema con esperti del settore. Che ne dite? Sono molto carico per il discorso video nel 2025 e devo solo stare attento a non impelagarmi in una sola direzione perché sono ancora lento nella realizzazione di contenuti. Anzi, se ci sono degli editor all'ascolto, scrivetemi nei commenti. Tra l'altro, un responsabile del GSE, con cui ho parlato qualche giorno fa, mi ha detto che nel 2025 ne vedremo delle belle testuali parole, quindi ho un po' paura. Ma vabbè, affronteremo insieme tutte le novità del nuovo anno. Questi sono i due obiettivi della neocostituita andreapicinelli.net per il 2025. A proposito di novità, sto studiando nuovi servizi. La maggior parte sono idee ancora campate in aria, quindi di quelle non vi parlo oggi. Però posso dirvi che stiamo sviluppando un servizio di verifica del rendimento e delle eventuali problematiche degli impianti esistenti. Che secondo me servirà molto a quei produttori che sospettano che il loro impianto soffra di ombreggiamenti. Se siete interessati, potete compilare il modulo qui sotto in descrizione per ricevere aggiornamenti e per sapere quando sarà attivo. Ultima novità, spero di completare, non credo a gennaio, ma comunque nei primi mesi del 2025, un nuovo corso dedicato alla parte tecnico-commerciale. Un corso che oltre alle basi del fotovoltaico affronterà l'intera gestione di una commessa, dal primo contatto col cliente fino all'attivazione e ai servizi post-allacciamento per gli impianti. Passando per il sopralluogo, l'offerta, il montaggio e le informazioni per la pratica di connessione. E tutto come al solito sotto una luce tecnico-burocratica. Escludendo la parte commerciale pura, trattative sui prezzi eccetera, questo non è affar mio. Questo corso è pensato per formare figure commerciali, professionali e consapevoli di quello che fanno. Sono in grado di dare i consigli giusti al cliente, supportare l'installatore e comprendere le tempistiche di realizzazione e connessione in modo da poterle anche spiegare al cliente finale e gestire i dubbi e le ansie del cliente. È sicuramente il corso con più lezioni che ho fatto finora, quindi non è ancora terminato. Però se siete interessati vi lascio in descrizione il link a un modulo di preadesione per ricevere anche per questo aggiornamenti sullo stato di realizzazione ed essere avvisati appena sarà pronto. Beh che dire, ci sono tutti gli ingredienti per arrivare alla fine del 2025 completamente centrifugati. Ma ne salteremo fuori anche quest'anno. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle idee che stiamo portando avanti. Se volete contattarmi trovate tutti i miei recapiti in descrizione o comunque il modulo di contatto sul sito andreapicinali.net. Io vi ringrazio come sempre per essere arrivati fino alla fine e per essere parte della community del canale e anche e soprattutto grazie al vostro supporto che siamo arrivati ai risultati di oggi. Tanti auguri di buone feste e appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapicinali.net Eccoci arrivati alla fine del video. Intanto grazie per essere arrivato fino a qui. Spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. E ricordati di lasciarmi un like, un super grazie per dimostrarmelo. In ogni caso fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, qual è per te il vero punto del discorso o come potrei essere utile nel fugare dubbi, propicità e preoccupazioni. Se non sei ancora iscritto al canale puoi farlo cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi video. Sul tasto abbonati puoi vedere i pacchetti di abbonamento che puoi attivare per sostenere il canale. In particolare per gli addetti ai lavori oggi c'è un nuovo abbonamento che ti dà accesso a video di approfondimento dedicati a tutte le novità burocratiche, tecniche e normative. Lo trovi nel pacchetto abbonamenti alla voce Aggiornamenti Tecnici. Per contattarmi, per i carichi, consulenze e collaborazioni in descrizione trovate tutti i miei canali social e i link al mio sito. Io come al solito ti ringrazio per essere parte della community del canale e ti do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da Andrea Piccinelli.